Questo divano c'era seduto Orlando qualche giorno fa e mi ha detto, vabbè ma è andata così? Io non mi arrendo al fatto che bisogna parlare e ragionare e che magari si può individuare una terza figura che non è Leccese, non è La Forgia, stiamo parlando del Comune di Bari, ma che magari è una terza figura. Si può ragionare in questi termini secondo lei? Io le dico su questo che preferirei in questa fase ascoltare molto il territorio, quindi tutti i nostri coordinatori provinciali, comunali, regionali, le riunioni che si fanno anche con Giuseppe Conte, il Presidente, quindi dobbiamo capire un attimo che cosa si può muovere sul territorio, fermo restando che oggi noi abbiamo un candidato, un candidato che è stato lui in prima persona anche quel giorno di aver detto che le primarie non potevano essere fatte in quel clima, cioè noi abbiamo avuto anche il candidato che l'ha dichiarato se non sbaglio proprio oggi, che proprio in quelle giornate aveva detto non ci sono le possibilità di fare le primarie. Siccome io non sto in questo momento lavorando a tutte le questioni pugliesi, anche su questi possibili scenari, secondo me va delegato a chi di competenza perché conosce ancora più approfonditamente la situazione ma rispetto alle candidature.